Nell'inizio quando mi hanno fatto salire qua ero contentissimo che sono nella testata della barca proprio contento da vedere tutto davanti vedere il mare tutto davanti a te no in realtà stavo qua prima ma guardavo sempre al dietro tutti quelli che salgono guardo davanti vedo il mare guardo dietro vedo gente che vomitava che sta veramente male gente che piange gente che è contenta di salire sulla parca erano come me che finalmente possono partire possono andare dove vogliono siamo cominciati a camminare a andare entrando nel mare proprio poi ho visto da un momento all'altro tutto cambiato tutto è diventato un incubo veramente vedendo questa vita qua con le onda l'onda che entra proprio nella parca ci fa bagnare ogni volta che faccio così la parca sale e scende sale e scende ogni volta che scende e vedo l'onda veramente alta dico questa qua ci copre adesso ci passa sopra di noi o magari la parca stessa si affonda una volta che scende non sale più la parca stessa si fa